Musica Le 13 e 51, ben ritrovati con l'informazione di TV Oggi Salerno. Come anticipato dal governatore De Luca, il 2017 sarà l'anno decisivo per il Costa d'Amalfi. Nominato l'avvocato Anna Ferrazzano, presidente del consorzio. In arrivo fondi per il prolungamento della metropolitana da Salerno a Pontecagnano. Ascoltiamo il servizio di Marcello Festa. Lo aveva anticipato nella conferenza stampa di fine anno. Il 2017 sarebbe stato l'anno decisivo per l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano e il Costa d'Amalfi. Detto, fatto. Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, non ha perso neanche un giorno. E così, fedele ad un cliché consolidato, è passato dalle parole ai fatti. Ebbene, Anna Ferrazzano è stata nominata nuovo presidente del consorzio aeroporto di Salerno. Formalizzata la richiesta del comune di Salerno lo scorso 30 dicembre, è arrivato il sì anche da parte dei soci del consorzio aeroporto. Dunque tutto fatto. Candidatura, quella dell'ex esponente del centro-destra, tenuta blindata per molti giorni, ma che di fatto sblocca una situazione non più sostenibile. Già consigliere comunale, candidata a sindaco alle elezioni nella fila del centro-destra, quando sfidò proprio Vincenzo De Luca per la poltrona di primo cittadino nel 2011, successivamente l'avvocato Ferrazzano. si è progressivamente smarcata, prima da Cirielli e poi da Carfagna, per avvicinarsi all'area politica del governatore. Ora la svolta decisiva, già criticatissima dall'opposizione. Non solo la nomina di Anna Ferrazzano alla guida del consorzio, altre importanti e probabilmente decisive novità bollono in pentola. La regione di Campania, infatti, per conto suo, sta premendo forte sull'acceleratore anche per collegare in tempi rapidi la città di Salerno con l'aeroporto Costa d'Amalfi. Nel finanziamento di oltre 117 milioni di euro stanziati per la mobilità dalla giunta regionale della Campania, bisogna infatti anche 6 milioni e 400 mila euro per il completamento della rete metropolitana dal capoluogo con la realizzazione della tratta Stadio Rechi-Ponte Cagnano-Aeroporto. L'intervento prevede 2 milioni e 400 mila euro per il 2017 ed altri 4 milioni per il 2018, intervento significativo che permetterà di mettere definitivamente in asse tutto il sistema dei trasporti. E questa mattina abbiamo intercettato il neopresidente del Consorzio Aeroporto Costa d'Amalfi, l'Avvocato Anna Ferrazzano. Tra le priorità del nuovo vertice dello scalo di Ponte Cagnano c'è l'allungamento della pista, condizione necessaria per il definitivo decollo dello scalo. Ascoltiamo. Innanzitutto sono onorata di questo incarico ricevuto, della nomina che il governatore ha fatto cadere sulla mia persona. Spero di essere all'altezza di un compito così difficile, oneroso e anche molto delicato per il momento nevralgico in cui questa infrastruttura si trova. E sotto gli occhi di tutti e nella memoria storica che l'aeroporto di Salerno comunque in tanto tempo non è riuscito ad essere quella infrastruttura strategica per il nostro territorio il governatore ha come il suo piglio peraltro che lo contraddistingue per questo carattere così forte e tenace che ha proprio avuto l'intenzione di far partire finalmente di dare un nuovo sviluppo, di una nuova sospinta a questa importante infrastruttura. La cosa fondamentale è che c'è il partenariato della regione basilicata quindi questo rende tutto più forte. Certo, un onere, un onore ma anche uno stimolo credo perché la sfida aeroporto, la sfida del Costa Amalfi è davvero molto stimolante perché come lei sottolineava si tratta di un'opera strategica per il territorio un'opera della quale da anni si parla senza però riuscire a trovare poi il punto decisivo. Ecco, quale sarà il primo impegno del nuovo presidente Anna Ferrazzano? Ma innanzitutto lavorare sinergicamente con la SPA con la società per azioni che è, diciamo, figlia del consorzio aeroportuale. Il presidente Ferraro, l'ingegnere Ferraro così come anche l'amministratore delegato all'area tecnica all'ingegnere Lardi, stanno lavorando molto allacremente sul punto perché ovviamente i punti nevralgici sono due l'allungamento, il famoso allungamento della pista e poi anche e soprattutto il discorso delle concessioni. Sul punto è stato anche effettuato da loro un ampio e importante lavoro illustrato in un cronoprogramma proprio alla scorsa assemblea del 30 di dicembre giorno in cui sono stati ratificati i poteri a me come presidente del consorzio aeroportuale e è stato illustrato appunto questo difficile cronoprogramma ma non per questo meno avvincente del resto le sfide difficili sono quelle di questo programma. Certo, certo, certo. È una roadmap particolarmente complicata anche irta di difficoltà ma quale sarà il primo, il primo proprio in ordine cronologico impegno di Anna Ferrazzano sull'aeroporto? Beh, innanzitutto quello di... i poteri del consorzio innanzitutto sono molto diversi da quelli della SPA perché la SPA si occupa più della parte tecnica ovviamente il consorzio invece della parte più gestionale innanzitutto è cercare di verificare un po' quella che è la cronistoria sono stati quelli che sono stati gli atti messi in cantiere dalle precedenti amministrazioni dalle precedenti presidenze e ovviamente correggere il tiro oppure incrementare lì dove ce ne dovesse essere bisogno per migliorare l'infrastruttura stessa. Il 2017 sarà per davvero l'anno decisivo per il decollo del Costa d'Amalfi? Ma il decollo del decollo ancora non si può parlare ed è prudente non parlarne. Bisogna effettuare prima un lavoro doveroso, necessario, faticoso affinché il decollo ci sia. Il decollo può essere previsto soltanto in seguito all'allungamento della pista e è logico che dal punto di vista tecnico ci sono degli scogli da dover superare imprescindibili, primo fra tutti appunto quello diciamo proprio infrastrutturale in senso stretto che è l'allungamento della pista altrimenti aerei di una certa qualità e una certa grandezza non possono né decollare né atterrare con facilità. E che il turismo rappresenti per davvero l'unica grande e imprescindibile risorsa per il sistema Italia e a maggior ragione per la campagna lo conferma anche l'indagine mensile di Conf Turismo Conf Commercio con l'Istituto Piepoli che certifica una significativa e costante crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno soprattutto una rinnovata fiducia nel settore del turismo ritenuto da 8 italiani su 10 il vero petrolio d'Italia il valore dell'indice di propensione al viaggio degli italiani infatti si posiziona a dicembre a 60 punti stabile rispetto a novembre il valore è tuttavia in crescita di un punto rispetto allo stesso mese del 2015 si conferma dunque il trend dell'ultimo trimestre 2016 che ha registrato un aumento della fiducia rispetto al quarto trimestre dell'anno precedente il 76% degli italiani inoltre crede che sia importante che il governo punti sul turismo per rilanciare l'economia i prossimi mesi sono caratterizzati da vacanze relativamente corte in media 3,8 notti per viaggio leggermente in crescita rispetto al mese scorso un italiano su due è in partenza per una città d'arte mentre uno su tre sceglierà per i prossimi mesi una destinazione montana il dato non sorprende vista la stagionalità ma ancora una volta si conferma la preferenza per visitare musei, monumenti e mostre cambiamo argomento gravissimo incidente stradale questa mattina a Sant'Egidio del Monte Albino intorno alle 6.20 si sono incrociati e tamponati un autocarro e un'autovettura hanno avuto la peggio l'automobile a bordo della quale viaggiavano un uomo e una donna entrambi i settantenni l'asfalto reso viscido dalla pioggia battente ha prolungato la frenata dopo la terribile carambola la vettura ha impattato un muro di cemento armato lo schianto ha avuto tragiche conseguenze la donna è deceduta, l'uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni sul posto i vigili del fuoco, del distaccamento di Nocera Inferiore i carabinieri e due ambulanze del 118 ascoltiamo il nostro corrispondente una donna ha perso la vita, il marito è ricoverato all'ospedale di Nocera Inferiore in gravissime condizioni tragico incidente stradale all'alba di questa mattina a Sant'Egirio del Monte Albino l'impatto mortale alle 5 e mezza in via Guglielmo Pepe non c'è stato nulla da fare per Carolina De Angelis, 73 anni, di Santa Maria La Carità che era in auto in compagnia del marito, 79 anni, NS, le sue iniziali che è stato sottoposto in queste ore a un delicatissimo intervento chirurgico nel reparto di neurochirurgia del nosocomio Umberto I di Nocera Inferiore i due coniugi erano all'interno della propria vettura, una matiz quando per motivi ancora in fase di accertamento si sono ritrovati fuori strada l'auto si è schiantata dapprima in modo violentissimo contro un camion poi sballottata contro un muro nell'incidente sono rimasti coinvolti altri veicoli si è verificato subito dopo una sorta di tamponamento a catena in pochi istanti sul posto sono giunti i carabinieri e gli agenti della polizia municipale di Sant'Egidio oltre al personale del 118 giunto con un'ambulanza in questo incrocio che da tempo è balzato gli onori della cronaca perché è ritenuto pericolosissimo per la pubblica incolubità tra l'altro proprio qualche giorno fa il sindaco di Sant'Egidio Carpentieri e l'assessore De Angelis si erano recati al palazzo provinciale per presentare un dossier nel quale sono stati evidenziati i numerosi incidenti stradali avvenuti in questa arteria un tratto stradale dove negli ultimi due anni si sarebbero verificati oltre 40 incidenti tra cui alcuni mortali proprio come quello di stamattina con questa documentazione gli amministratori del comune di Sant'Egidio hanno chiesto con forza alla provincia di Salerno l'installazione in questa zona di dissuasori di velocità L'ARPAC ha provveduto a installare altri quattro nuovi campionatori di polveri sottili sui pali della luce per monitorare con maggiore precisione la qualità dell'area dal quartiere Fratte fino ai cumuli limitrofi della valle dell'Irno Vediamo Anno nuovo centraline nuove dopo il superamento dei valori medi di biossido di azoto dello scorso mese di dicembre pari a 41.5 superiori al valore limite consentito di 40 metri cubi rilevati dalla campagna di monitoraggio della qualità dell'aria effettuata con il laboratorio mobile installato nella zona di Fratte l'ARPAC rafforza e potenzia gli strumenti nella tratta di via dei Greci per meglio valutare la qualità dell'aria dopo che il quartiere si trova ad incrociare due problematiche ambientali Saranno installate nei prossimi giorni sui pali della luce nella tratta di via dei Greci quattro nuove centraline per misurare le polveri sottili e monitorare con maggiore precisione la qualità dell'aria nel quartiere Fratte fino ai comuni limitrofi della valle dell'Irno E' quanto prevede un nuovo provvedimento firmato dal commissario straordinario dell'ARPAC Pietro Vasaturo ritenuto necessario dopo il dissequestro disposto dal Tribunale del Riesame di Salerno e la conseguente riapertura delle Fonderie Pisano ma anche a seguito dell'inaugurazione del Megastor Le Cotoniere che ha di fatto incrementato il traffico nella zona Il particolare momento storico si legge nel documento firmato da Vasaturo impone un ulteriore rafforzamento e potenziamento degli strumenti in grado di valutare la qualità dell'aria così come aumentare la frequenza degli interventi sulle altre matrici ambientali Le verifiche dei tecnici saranno infatti intensificate anche su acqua e suolo I quattro campionatori di polveri sottili saranno installati a breve lungo la strada che porta al centro commerciale e allo stabilimento delle Fonderie Pisano I nuovi macchinari, oltre a misurare la presenza in area delle polveri PM10 e delle polveri più sottili denominate PM2.5 permetteranno di monitorare anche altri tipi di polveri metalliche Se i dati che rappresentano un rilevante interesse sanitario dovessero sforare i limiti consentiti il Comune di Salerno dovrà prendere misure in merito con limitazioni alla circolazione veicolare nella zona di Fratte Ancora cronaca, il cadavere di un uomo di cui non si conoscono ancora le generalità è stato ritrovato all'interno di un ex-optificio a Battipaglia alle spalle dello stadio Pastena A dare l'allarme sono state alcune persone che hanno allertato la polizia municipale che ha immediatamente informato a sua volta la locale compagnia dei carabinieri giunti sul posto e i militari hanno rinvenuto il cadavere di un uomo morto presumibilmente già da alcuni giorni con delle ferite molto probabilmente provocate da roditori L'opificio abbandonato è spesso luogo di ritrovo di clochar della zona di cui l'ipotesi che il cadavere possa essere quello di un vagabondo Il corpo senza vita è stato trasferito all'ospedale di Battipaglia dove si attende l'esame esterno del medico legale per accettare le cause del decesso Ci spostiamo sulla fronte sanità Si terranno questo pomeriggio i funerali di Anna Passero la 54enne morta all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo un mese e mezzo di calvario iniziato con un'operazione di asportazione all'utero effettuata presso la clinica Malzoni di Avellino Ieri è stata seguita l'autopsia dalla quale sembrerebbe che il decesso sia avvenuto per una sepsi Sulla caso indaga la procura di Napoli che ha puntato i riflettori su otto sanitari Vediamo il servizio dei nostri corrispondenti Si terranno questo pomeriggio i funerali di Anna Passero la 54enne di Agropoli morta all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo un mese e mezzo di calvario iniziato con un'operazione di asportazione dell'utero effettuata presso la clinica Malzoni di Avellino Ieri è stata eseguita l'autopsia dalla quale sembrerebbe che il decesso sia avvenuta per una sepsi Sul caso indaga la procura di Napoli che ha puntato i riflettori su otto sanitari La donna era stata ricoverata lo scorso 15 novembre per sottoporsi ad un intervento di asportazione dell'utero un'operazione di routine alla quale è stata sottoposta il giorno seguente ma il calvario era appena iniziato anziché uscire qualche giorno dopo come pensavano lei e i suoi familiari è rimasta in clinica per oltre un mese a causa di una serie di complicanze I familiari inizialmente si sono continuati ad affidare i medici della clinica velinese poi la signora è stata trasferita al Cardarelli dove ormai le sue condizioni erano già gravi la donna infatti è spirata poco dopo Sul caso ora indaga la procura di Napoli questo pomeriggio intanto alle ore 15 nella chiesa di Sant'Antonio a Moio si terranno le sequie E voltiamo pagina è tempo di saldi il 5 gennaio in Campania iniziano i saldi la regione Campania aderendo al documento della conferenza delle regioni e province autonome del 7 luglio 2016 ha stabilito che le vendite invernali dei saldi inizieranno il primo giorno feriale antecedente l'epifania e quindi il 5 gennaio successivamente con apposito decreto dirigenziale la regione Campania su richiesta della Confesercenti ha stabilito che i saldi invernali dureranno 60 giorni a partire dal 5 gennaio e quindi fino al 6 marzo del 2017 i saldi di fine stagione o saldi invernali rappresentano dichiara il commissario provinciale della Confesercenti di Salerno dottor Pasquale Giglio un'importante occasione di vendita per il settore moda ed è proprio l'importanza che rivestono i saldi per le nostre imprese che abbiamo chiesto alla regione Campania di tutelare i saldi vietando almeno 30 giorni prima dei saldi le vendite promozionali ed altre forme non regolamentate e controllate svolte per la stragrande maggioranza all'interno della grande distribuzione commerciale invitiamo, continua il commissario della Confesercenti provinciale di Salerno le amministrazioni comunali a far rispettare le regole ed in questo caso una norma regionale affinché non bisiano fughe in avanti che snaturano di fatto le vendite tanto attese dei saldi la Confesercenti inoltre invita le associazioni dei consumatori ad una proficua collaborazione affinché per tutti i 60 giorni delle vendite a saldo vi sia un corretto e proficuo rapporto tra le esercenti e consumatori nell'interesse reciproco ci spostiamo in provincia la visita del parlamentare grillino Paolo Bernini nello zoo di Fra Giggino all'interno del santuario francescano ha sollevato un vespaio di polemiche ed ha innescato un'accesa diatriba anche all'interno dello stesso Movimento 5 Stelle con gli attivisti cavesi che hanno preso le distanze dal portavoce parlamentare Pentastellato intanto sulla pagina Facebook non è mancato l'anatema di Fra Giggino Petrone una vicenda questa destinata a far discutere ancora nei prossimi giorni vediamo il servizio la visita del parlamentare grillino Paolo Bernini nello zoo di Fra Giggino all'interno del santuario francescano ha sollevato un vespaio di polemiche e ha innescato un'accesa diatriba anche all'interno dello stesso Movimento 5 Stelle con gli attivisti cavesi che hanno preso le distanze dal portavoce parlamentare Pentastellato prima di Natale il deputato grillino insieme ai carabinieri e a un delegato della Lega del Cane di Battipaglia aveva fatto un'ispezione all'interno del cortile alle spalle del santuario francescano successivamente in una nota Bernini aveva denunciato la presenza a suo avviso illegale di un cervo di una civetta delle nevi di due lama tre pavoni oltre che conigli galline e una capra sostenendo che si trattasse di un vero e proprio zoo con tanto di ingresso a pagamento con offerta minima di un euro per questo il parlamentare aveva presentato un esposto alla procura della Repubblica nella giornata di ieri lo scontro si è spostato all'interno del Movimento 5 Stelle infatti i grillini cavesi si sono dissociati e hanno stigmatizzato il modo di operare dell'onorevole Bernini allo stesso tempo gli attivisti dell'associazione Cava 5 Stelle Libro Bianco non perdono l'occasione di bacchettare altri deputati grillini e espressione del territorio tra cui Angelo Tofalo e Silvia Giordano e di fare autocritica ci teniamo a precisare che questo onorevole portavoce è venuto più e più volte a Cava a osservare gli animali del santuario ma non si è degnato di avvertire nessuno degli attivisti presenti che De Visu gli avrebbero potuto mostrare le priorità effettive senza nulla togliere allo stato di salute degli amici animali premesso che quanto denunciato dal parlamentare dovrà essere verificato ed eventualmente sanzionato dalle autorità competenti meraviglia la solerzia con la quale i rappresentanti locali del Movimento 5 Stelle in Parlamento abbiano ritenuto opportuno intervenire in questa occasione il parlamentare del Movimento 5 Stelle Angelo Tofalo e la parlamentare del Movimento 5 Stelle Silvia Giordano sono stati contattati in questi anni più e più volte su vicende di interesse pubblico certamente più importanti per il territorio come la questione del nostro ospedale intanto sulla sua pagina Facebook è arrivato l'anatema di Fragigino Petrone il quale ha consigliato ai suoi detrattori di andare a farsi una crociera con l'augurio che al timone ci sia Francesco Schettino posta poi rimosso dallo stesso Francescano una vicenda questa destinata a fare ancora discutere nei prossimi giorni Il Movimento Noi con Salvini di Salerno ha organizzato per giovedì prossimo 5 gennaio 2017 dalle ore 11 alle ore 12.30 di fronte la Prefettura di Salerno un sit-in di solidarietà nei confronti delle forze dell'ordine continuamente impegnate nel duro compito di protezione e prevenzione del territorio e dei cittadini in particolare questa iniziativa vuole manifestare la vicinanza del Movimento nei confronti dell'artificiale salernitano Mario Vece gravemente ferito nell'attentato alla Libreria di Firenze vicino agli ambienti di destra e ai due ragazzi che hanno affrontato e ucciso l'attentatore di Berlino Era questa l'ultima notizia della prima parte del TGOG News si ferma anzi ci fermiamo qui subito dopo i comunicati commerciali di nuovo in studio per le ultimissime 15 minuti dopo le ore 14 seconda parte del TGOG News nuovo crollo lungo il perimetro della rupe su cui si erge il centro storico di Agropoli a distanza di due anni dall'ultima segnalazione un movimento franoso si è registrato proprio nelle vicinanze del faro a segnalarlo è stato un gruppo di pescatori che nei giorni scorsi via mare ha potuto vedere più da vicino il fenomeno vediamo nuovo crollo lungo il perimetro della rupe su cui si erge il centro storico della città a distanza di due anni dall'ultima segnalazione un movimento franoso si è registrato proprio nelle vicinanze del faro a segnalarle un gruppo di pescatori che nei giorni scorsi via mare ha potuto vedere più da vicino il fenomeno il caso ha messo in apprezzione i cittadini del borgo antico che già in passato hanno chiesto all'amministrazione comunale di intervenire con un progetto di tutela del costone roccioso non è la prima volta infatti che si verificano episodi simili in meno di dieci anni sono almeno tre i casi segnalati il più consistente nel 2008 quando a crollare fu la parte superiore delle grotte preistoriche sempre nelle vicinanze del faro il fenomeno franoso avvenuto nei giorni scorsi però sembra sia limitato a del terreno e non avrebbe coinvolto la roccia ciò in ogni caso testimonia che la rupe a causa dell'azione del vento della pioggia e soprattutto del mare ha rischio erosione dato peraltro facilmente verificabile guardando il sentiero che conduce al fortino unica discesa al mare dal centro storico è necessario tutelare il costone roccioso di Agropoli lamentano i residenti che hanno più volte sottolineato la necessità di intervenire così come evidenziato anche degli esperti i quali precisano che seppur il fenomeno è lento col trascorrere degli anni i rischi aumentano da palazzo di città hanno evidenziato di aver sempre prestato la massima attenzione al problema dell'erosione per la rupe in passato sono stati effettuati dei sopralluoghi con il genio civile e la capitaneria di Porto e torniamo a Salerno questo pomeriggio alle ore 18 e 30 presso la chiesa Santa Andrea di Lavine a Largo Campo a Salerno si terrà la presentazione dei libri Cetara una sponda del Mediterraneo scritto dall'avvocato Costantino Montesanto ed Erchie la torre e la tonnara volume che raccoglie antichi manoscritti del sacerdote Don Nicola di Bianco all'incontro moderato dal cavaliere Antonio De Santis interverranno gli autori i professori Giuseppe Gargano e Pasquale Natella nuova pausa la pagina degli appuntamenti Natale insieme a Ponte Cagnano faiano tanti eventi per la rassegna promossa dal comune di Picentini mercatini animazione gusto shopping e serate a tema musica e di intrattenimento emozioni e divertimento in una città tutta da vivere andiamo ti divertirai te lo prometto la pubblicità il meteo e subito dopo le ultimissime nella pagina dello sport in collaborazione con che dici a Natale ce lo regaliamo un tv grande grande per guardarci film nei due soli eh ma e regala tua mamma tranquilla expert gruppo somma dà più valore al Natale tantissimi sconti per te così fai tutti i regali che vuoi e li paghi in dieci o venti mesi a tasso zero expert gruppo somma ora anche alle cotoniere grazie expert gli esperti siamo noi previsioni del tempo fornite da 3b meteo 24 minuti dopo le ore 14 la pagina dello sport salernitana e tempo di mercato la salernitana si concentra sul mercato ed ha a disposizione oltre due settimane per rinforzare la rosa prima della ripresa del campionato per il club di Lottito e Mezzarome è un'occasione importante per potersi ripresentare ai nastri di partenza con una rosa più completa e competitiva specie in difesa infatti occorrono innesti mirati per potenziare un reparto che nel girone d'andata ha denotato troppe incertezze il servizio di Nicola Roberto priorità alla difesa e visti i numeri di regione di andata la cosa appare doverosa e scontata la salernitana la quinta peggiore difesa del campionato cadetto e per di più ha subito 12 dei 28 gol totali su palla inattiva un dato che deve far riflettere che impone provvedimenti perché denota la scarsa propensione e in alcuni casi la scarsa capacità di concentrazione dei singoli sul bilancio allarmante dei gol incassati sui sviluppi di calcio di Afermo pesa anche la cronica ritrosia ad uscire dai palli di Terracciano un portiere che non esce infatti costringe la sua difesa a tenere più bassa la linea difensiva e di conseguenza invita gli avversari ad entrare fin dentro la sua area di porta viceversa un estremo difensore sicuro e pronto a catturare palloni in presa alta semplifica la vita dei suoi difensori per di più nelle ultime giornate Terracciano non è stato impeccabile neanche tra i pali sul gol di Verdi ad Avellino sul calcio di punizione diretto di Dezzi con il Perugia l'ex Catania non è apparso pronto e reattivo Terracciano alla sua seconda stagione in grata e da tempo chiede alla società garanzie in merito al suo futuro visto che è ancora di proprietà del club siciliano ma la Salernitana ha l'obbligo di riscatto in caso di promozione in massima serie eventualità questa al momento assai remota ragion per cui il portiere casertano spinge affinché il riscatto del suo cartellino arrivi a prescindere la Salernitana Nicchia si guarda intorno perché il mercato offre diverse alternative Gomì e Pigliacelli sono sul tacquino mentre Vigorito del Vicenza convince meno per via di un infortunio subito nella scorsa stagione portiere ma non solo con Franco mai preso in considerazione di impartenza Modena e Foggia alla finestra si cerca un'alternativa sulla corsia sinistra a Vitale la Lazio ha i giovani Filippini e Germoni ora in prestito a Cesena e Ternana ed uno dei due potrebbe anche fare le valigie per approdare alla corte di Bollini l'Ambrughi del Livorno rappresenta la soluzione di esperienza in bilico sulla corsia destra la Verone poco utilizzato se non in occasione di emergenza come contro il Perugia se l'ex Vicenza dovesse partire si punterebbe su un elemento giovane da far crescere all'ombra di Perico la lacuna maggiore nella batteria di centrali in cui manca un vero leader e non c'è nessun elemento di piede sinistro arrivasse Blanchard dal Carpi il DS Fabiani coglierebbe i classici due piccioni con una fava il club Emiliano ha messo gli occhi su Improta e nelle sue fila anche il centrocampista Crini che vorrebbe giocare di più ma che Castori non vorrebbe far partire sull'asse Carpi-Salerno si potrebbe sviluppare qualche trattativa per un centrale in arrivo uno destinato a partire Raffaele Schiavi non rientra più nei piani del club Avellino Vicenza e Parma hanno avuto qualche abboccamento con i suoi agenti in mediana piace Giorico del Modena che segue Caccavalle-Guo-Silva i due però hanno mostrato freddezza per la destinazione preferendo altre sistemazioni nel caso dovessero lasciare Salerno su Codedonna Roma c'è grande fermento ma Lottito è deciso di rifiutare ogni offerta servirebbe integrare la batteria degli esterni d'attacco il Vicenza ha messo in uscita Fabigno traduce da un infortunio e poco utilizzato finora a Bollini piace il Laziale Lombardi che però Simone Inzaghi vorrebbe ancora avere a disposizione dalla prima squadra alla primavera è fermo il campionato di B e tempo di riposo anche per le giovanili per i tornei giovanili la Salernitana non ha raccolto finora risultati entusiasmati con le squadre il suo settore giovanile la primavera di Savini infatti all'ultimo posto nel suo girone di appartenenza ed è tutt'altro che il fiore all'occhiello del Club Granata nel 2017 si spera che i risultati possano migliorare perché non possono prescindere da una programmazione più oculata ed ispirata Nicola Roberto ha fatto un po' le pulci alla formazione di Savini vediamo tempo di bilanci anche se parziali per il settore giovanile Granata la pausa invernale ha cristallizzato le classifiche dei vari campionati e l'istantanea che la Salernitana ha potuto incorniciare nella sua bacheca non è certo delle più belle il settore giovanile Granata è sotto la responsabilità del DS Angelo Fabiani supervisore del movimento che ha affidato ad Alberto Bianchi il suo braccio destro il compito di seguire più da vicino la vita delle formazioni giovanili nell'organigramma dirigenziale figura anche Fabrizio Fabiani il figlio del DS in estate la Salernitana ha proceduto ad una rifondazione del suo parco calciatori svincolando molti ragazzi e tesserandone i nuovi tutte le formazioni giovanili sono state interessate da cambiamenti profondi alcuni anche troppo radicali perché a detta di molti osservatori e cultori dell'universo giovanile al suo interno la Salernitana aveva diversi elementi interessanti che sono stati congedati senza troppi complimenti nei rimpianti si è proceduto poi anche ad un rimpasto dei quadri tecnici una sorta di anno zero insomma anche se nel settore giovanile ci sarebbe bisogno di continuità e non di rivoluzioni continue a meno di necessità di segno opposto il vivaio è la linfa vitale per ogni club e Marco Mezzaroma ha sempre confessato il sogno di poter vedere crescere in casa talenti da portare in prima squadra un domani eppure la politica adottata dallo staff dirigenziale Granata non sembra andare in questa direzione i risultati che non sono l'unico metro di giudizio quando si parla di giovani non sono dei più lusinghieri la formazione primavera allenata da Savini è all'ultimo posto del suo girone con soli tre punti in dodici partite una vittoria ed undici sconfitte il bilancio dei Granatini che hanno segnato dodici gol incassandone trentatré e a migliorare le cose non sono valsi neanche i prestiti dei vari Leadis Cenai e Grillo elementi gravitanti nell'orbita della formazione maggiore ed aggregati chi più chi meno alla squadra di Savini vanno meglio le cose per l'under 17 di Ciro De Cesare che ha totalizzato 13 punti in altrettante partite frutto di tre vittorie quattro pari e sei capo con un rapporto quasi in pareggio tra golfatti 14 e subiti 15 l'under 16 guidata da Emanuele Ferraro non conosce mezze misure come dimostrano le quattro vittorie e le nove sconfitte e la totale assenza di pareggi non certo positivo il bilancio infatto di gol 16 realizzati 32 il doppio quelli subiti segnali di speranza aggiungono dalla squadra under 15 guidata da Landi che ha collezionato 20 punti grazie a 5 vittorie altrettanti pareggi e tre sconfitte con 19 gol fatti e 16 subiti l'under 15 è l'unica squadra tra quelle del Vivaio ad avere un rapporto inattivo sotto questo aspetto i giovanissimi di Costantino hanno finora vinto due partite pareggiandone tre e perdendone sette con 13 gol fatti e 28 subiti questi i numeri delle varie squadre giovanili di Granata che servono solo a rendere un'idea perché il discorso è più ampio le giovanili di Granata devono fare i conti con difficoltà logistiche solo in parte attenuatisi con la fruizione del Volpe e si sa quanto le strutture facciano la differenza sia Atalanta Empoli ed altre società che non hanno bacini di utenza tanto diversi da quello di Salerno sono da anni leader nel campo giovanile il motivo è da ricercarsi nella disponibilità di strutture adeguate e nella capacità di affidarsi ad esperti del settore sia dal punto di vista tecnico sia dirigenziale se la primavera dell'Entelli è al primo posto in classifica e quella Granata è ultima tanto per fare un esempio qualche motivo ci sarà e di certo sarebbe opportuno che chi ha la responsabilità del settore giovanile facesse un'analisi ad ampio respiro interrogandosi i motivi di risultati così scadenti che denotano anche un basso tasso tecnico dei calciatori reclutati in estate più investimenti una programmazione più ispirata professionalità di esperienza comprovata strutture edonee nel 2017 ci si augura che il settore giovanile possa avere tutto questo per ora però il piatto piange e qualcuno dovrebbe spiegare perché notte fonda in casa settore giovanile ci spostiamo in casa paganese invece dove continua anzi permane il discorso relativo al mercato entra nel vivo il calciomercato infatti anche per la paganese che vuole fare cassa attraverso le cessioni dei suoi pezzi pregiati per Francesco Deli sembra oramai imminente la ratifica dell'intesa con il Foggia il club Dauno ha superato tutti nella corsa al trequartista azzurro stellato che è pronto a trasferirsi alla corte di Struppa Cicirelli invece piace al Cesena il DS Ferrigno è attivo anche in entrata e cerca un difensore centrale piacciono Spanò della Reggiana e Mantovani della Salernitana a centrocampo tiraria di addio per Maiorano si cerca un altro elemento per completare il reparto era questa l'ultima notizia della prima parte del TG Sport ci fermiamo per un attimo subito dopo di nuovo con noi le 14.34 la seconda parte del TG Oggi Sport dal calcio alla basket ci spostiamo in serie A2 testa a coda al Palamangano per il recupero della dodicesima giornata del campionato di A2 questa sera arriva l'Angelico Biella capolista solitaria del girone Ovest comincia quindi con un difficilissimo impegno interno il nuovo anno solare per la Givova Scafati coach Perdichizzi potrà contare sull'organico al completo sul fronte opposto il confermato coach Michele Carrea può disporre di un quintetto base di primissimo ordine che si fonda soprattutto sulla coppia di statunitensi Ferguson e Holla a cui si aggiungono il playmaker venuto l'esterno De Vico ed il centro tessitori era questa l'ultima notizia del TG Oggi Sport l'informazione di TV Oggi ritorna puntuale alle 19.30 grazie per averci preferito TV Oggi On Demand vuoi rivedere questo programma? visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand a tutti a tutti